colione nice oggi montiamo oggi montiamo queste minchiate che costano più di me questo vuole qua questi vogliono qua queste vogliono qui questo è figa questa però e poi montiamo questo Allora Una cazzo di scena Seria non si può fare Allora Sta roba non l'avete mai vista Prima in Italia Quasi no dai Non diciamo sfruttate Va qua Per me va bene Perfetto No la chicca Sono ste pedane Visto che Montavano quelle dell'altra volta Guardate che cazzo di figata Sono una bomba ste robe E in Italia queste dovrebbero montare Anche perché costano Non lo diciamo Duecento No Stai contando i pulpi sulla patente No Belle differenze Andiamo a montare questa Questo non è buttare Abbiamo montato I fianchetti Quelli bianchi Totoli Ha montato Poverino Da solo E tutto da sola E adesso abbiamo montato Questa qua Che è una bomba Poi adesso con la sella blu E poi con la copertina Abbiamo finito Quasi finito Diciamo così Per adesso abbiamo montato Questo qua in carbonio E poi abbiamo montato I convogliatori E i fianchetti E li abbiamo messi Tutti bianchi Perché comunque Dovranno arrivare La grafica breve E Verranno una merda Chiaramente Adesso Leviamo pure Sto schifo qua Che mamma mia Adesso guarda Non appiccico Anche questo qua Che mi piace un botto Perché è feina Finocchi Lo mettiamo qua sul cazzo Perfetto Adesso siamo pronti Per montare le pedale Moto di merda Abbiamo dovuto Togliere il pedalino Del freno Ragazzi ma con tutte Le moto che ci sono Proprio il TM Dovete comprare Io non lo so Che problemi hai te Sì 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 È un'impressione Ragazzi non seguite Compa 128xg Che pezzo di merda Bravo Compa Continua così Che pezzo di merda Boh ragazzi Abbiamo finito Per oggi Arrivato Dai abbiamo finito Abbiamo montato Le pedane Che stanno di merda Perché è un colore Diverso da questo qua Un colore diverso Da questo No scherzo Sono bellissime Poi con scritto TM qua Io non lo so Però secondo me Secondo me Siamo i primi In Italia A averle montate Perché non l'ho mai visto Sul motarsi Se anche voi Volete questi pezzi Anche perché Visto che adesso Per ora Le pedane Che avevamo preso Di Alba Motor Part Non montavano L'unica pedane Che abbiamo trovato Sono state queste qua Le abbiamo preso TM Boang Poi le ha preso Io non ho fatto un cazzo Le ho montate male Questo qua Anche tanta roba Poi comunque Con il serbatoio Pellicolato Secondo me Fa un bel effetto Cioè devo dire Mi piace E poi ragazzi Bisogna aspettare un po' Anche il copicella E le grafiche Che secondo me Stravoggeranno il look Diciamo che Dai secondo me Mi è bella Piano piano Si sta l'esendo Poi di soli Ce ne spende il proprietario Vi ricordo di seguirmi Su Youtube Per non perdere Le prossime puntate Questa è figa Figa Faremo un confronto Tra il terminale Che ha preso il proprietario Questo qua Finocchio Che è ATM E un altro Finocchione Che ha preso il TM Uguale Però ha preso Ha voluto spendere Appena un po' di più Perché l'ha preso in titanio Il terminale Non spoileriamo la marca Perché se no è troppo easy Comunque diciamo solo Che uno l'ha preso In alluminio E uno l'ha preso in titanio Quindi faremo un confronto Del sound Che non ne sono così sicuro Che sia Più figo il sound Del titanio Ciao